Bene, abbandoniamo questa parentesi di testimonianza e lascio molto volentieri il palco e il microfono a Paola Cortellesi. Prego Paola Cortellesi e grazie di essere qua. Grazie a voi. Buonasera. Quando da bambina mi spiegarono per la prima volta quali fossero le cariche dello Stato, a presiedere la Camera c'era Neil Dejotti. Mi sembrava scontato che qualcuno dovesse ricoprire quella carica e trovavo normale che fosse una donna, nonostante tutti continuassero a sottolinearlo. La nostra Presidente, così sentivo dire in casa, era nostra dunque, apparteneva a tutti noi. C'era in casa la massima attenzione per ogni suo intervento. Si taceva a tavola per seguire un servizio che la riguardasse, una sua dichiarazione al TG. Era una signora molto importante, questo avevo capito, che aveva fatto cose molto importanti. Le compresi negli anni seguenti, crescendo, ascoltando i racconti dei miei genitori, studiando a scuola la storia del nostro paese e la condizione della donna. Le dure battaglie vinte e quelle ancora da combattere. Ero diventata una ragazza e a presiedere la Camera con il più lungo mandato nella storia della Repubblica c'era sempre lei, gentile, combattiva, elegante, fiera. Neil Dejotti, la nostra Presidente, una donna importante. Nell'anno in cui si celebrano i cento anni dalla nascita di questa donna straordinaria, sono stata particolarmente felice di narrare alcuni momenti della sua incredibile vita nel film documentario di Peter Marcias a lei dedicato, Neil Dejotti, il tempo delle donne. Sono onorata di aver contribuito a questo racconto, un documento utile non solo a ricordare la vita coraggiosa e il lavoro esemplare di Neil Dejotti, ma a far conoscere alle nuove generazioni le faticose battaglie all'origine dei loro diritti, a non darli per scontati e alla necessità di difenderli. Grazie a tutti. Relazione sulla famiglia La famiglia svolta da Neil Dejotti in sede di Prima Commissione dell'Assemblea Costituente, 30 ottobre 1946. È indispensabile che la Repubblica italiana affermi nella Costituzione il principio di rafforzare la famiglia. Si impone anche in questo campo un'opera di svecchiamento e di rinnovamento democratico conforme allo spirito che deve ispirare la nuova Costituzione e tutta la vita italiana nel nuovo regime repubblicano. Nella vecchia legislazione, nel vecchio costume del nostro paese, la famiglia ha mantenuto fino ad ora una fisionomia che si può definire per certi aspetti antidemocratica. Uno dei coniugi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate che la pongono in uno stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della persona. Per realizzare l'emancipazione di tutti i componenti della famiglia, a partire dalle donne, bisogna promuovere il diritto al lavoro da affermarsi per tutti i cittadini senza distinzione di sesso. Solo realizzando nella pratica il suo diritto al lavoro, la donna acquista quella indipendenza, base di una vera e compiuta personalità, che le consente di vedere nel matrimonio non più un espediente talora forzato per risolvere una situazione economica difficile ed assicurarsi l'esistenza, ma la soddisfazione di una profonda esigenza naturale, morale e sociale, e lo sviluppo ed il coronamento nella libertà della propria persona. Si rafforzerà così e migliorerà l'istituto familiare stesso, cui verrà conferita una impronta di serenità e di dignità che finora non ha sempre posseduto. Si propone che la Costituzione si ispiri ai principi seguenti. 1. Ciascun cittadino deve avere una condizione economica tale che gli permetta di formarsi una famiglia e di provvedere al suo sostentamento. Tale condizione è strettamente legata alla possibilità di lavoro che la Repubblica deve poter garantire a chiunque in modo adeguato. 2. Deve essere riconosciuto il principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Il matrimonio diventa così un'unione liberamente consentita di due persone giuridicamente uguali e la donna viene tolta da quello stato di inferiorità. 3. Stabilita la eguaglianza giuridica dei coniugi ne deriva la eguaglianza dei doveri di fronte alla prole per la sua educazione e distruzione. Lo Stato dovrà però esercitare una assidua azione di controllo affinché educazione e distruzione vengano date in uguale modo a tutte le categorie sociali senza distinzione. 4. Si è detto che i genitori hanno il diritto e il dovere di provvedere materialmente e moralmente alla prole. Qual è dunque la posizione dei genitori verso i figli illegittimi? Fino ad ora i figli illegittimi sono stati nella società una categoria di diseredati, ingiustamente colpiti ed umiliati per un atto non da loro commesso. Il problema già sentito nel passato si è aggravato in seguito alla guerra, provocando disorientamento morale nel seno di molte famiglie. 5. La Repubblica deve dare adeguata e giusta soluzione a questo problema, riconoscendo ai figli illegittimi gli stessi diritti dei figli legittimi. 6. Lo Stato deve riconoscere la maternità come funzione sociale. Non si può continuare a considerare la maternità un fatto privato. Da essa dipende la prosperità della nazione e lo sviluppo dei futuri cittadini. E la società non può rimanere indifferente se le madri vivono in condizioni igieniche, sanitarie ed alimentari precarie e se i bambini vengono cresciuti in ambienti non idonei, moralmente e materialmente, al loro sviluppo. Di conseguenza lo Stato deve obbligarsi a dare una protezione adeguata alla maternità, all'infanzia, alla gioventù, attraverso la istituzione di organismi che attivamente e concretamente svolgano questa opera. Grazie. Grazie. Discorso sul divorzio, svolto alla Camera dei Deputati il 25 novembre 1969. Onorevoli colleghi, quello che noi dobbiamo fare è riuscire a capire, a vedere fino in fondo, quale sia la natura della famiglia oggi, come essa possa essere concepita e vista, come essa si formi, in base a quali spinte, a quali sentimenti, come essa viva nella realtà del nostro paese. Ebbene, credo che dobbiamo giungere ad una prima considerazione che non ritengo si possa contestare. Nel passato la famiglia ha costituito essenzialmente un momento di aggregazione della società umana, basato su motivi molto diversi. L'accasamento, particolarmente per le donne, la procreazione dei figli, la trasmissione del patrimonio. Questi erano i motivi fondamentali che portavano alla costituzione della famiglia. La famiglia, cioè, ha risposto in qualche modo alla ricerca di collocazione sociale degli individui. Per quanto siano forti i sentimenti che uniscono un uomo e una donna, in ogni tempo, ma soprattutto, direi, nel mondo di oggi, essi possono anche mutare. E quando non esistono più i sentimenti, non esiste neppure più il fondamento morale su cui si basa la vita familiare. Abbiamo dunque bisogno di ammettere la possibilità della separazione e dello scioglimento del matrimonio. Comunico il risultato della votazione. Presenti e votanti, 615. Maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, 420. Proclamo eletto Presidente della Camera, l'Onorevole Leonil De Iotti, che ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Onorevoli colleghi, con emozione profonda, vi ringrazio per avermi chiamato, col vostro voto e con la vostra fiducia, a questo compito così ricco di responsabilità e di prestigio. Voi comprenderete, io credo, la mia emozione. In questo alto incarico mi ha presceduto l'Onorevole Pietro Ingrao, che fino a ieri ha diretto i nostri lavori con grande intelligenza e impazialità. E prima ancora l'Onorevole Sandro Pertini, oggi Presidente della Repubblica, a cui va il mio deferente saluto. ma in particolare comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia. Discorso svolto al Pantheon di Roma il 9 aprile 1990 in occasione della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare Cambiare i tempi di vita. Care compagne, care amiche, cari cittadini, può sembrare strano, voglio dirlo con franchezza, che proprio io, che come Presidente della Camera dovrò ricevere questa proposta di legge quando saranno state raccolte le firme, sottoscriva per prima questo progetto che mira a rendere più umani i tempi del lavoro, gli orari delle città, il ritmo della vita. Può sembrare strano ed in effetti è la prima volta che accade, ma non per caso. Sono infatti profondamente convinta che ci troviamo di fronte a una proposta di grande importanza e cercherò di dirvi semplicemente quali sono i motivi che mi hanno spinto a prendere parte a questa manifestazione con cui questa legge comincia il suo cammino attraverso l'Italia per essere conosciuta, apprezzata, sottoscritta dal maggior numero possibile di cittadini. Voglio dire intanto che l'importanza di questa proposta sta nei suoi contenuti così semplici e giusti eppure così rivoluzionari in una società caratterizzata dalla fretta, dai ritmi inumani, dall'impossibilità di vivere una vita serena. Ecco, questa legge è fatta da noi donne per noi donne anzitutto. Forse mai come in questo caso una proposta risponde alle ansie, alle esigenze, alle sofferenze di ogni giorno. perché è una proposta che fa entrare nella politica l'esperienza quotidiana della vita, le piccole cose dell'esistenza, costringendo tutti, uomini politici, ministri, economisti, amministratori locali, a fare finalmente i conti con la vita concreta delle donne. Mi chiedo infatti, e vi chiedo, non siamo noi a cercare sempre di far quadrare tempi impossibili di vita, non siamo noi a fare i salti mortali per fare entrare in 24 ore il lavoro e la spesa al mercato, la riunione, i compiti dei figli, non siamo forse noi che ci sdoppiamo per rendere compatibili orari e sportelli, l'apertura e la chiusura dei negozi, gli orari di lavoro e della scuola, tutti i modelli, insomma, di un'organizzazione della vita che tiene conto di tutto tranne che della vita della gente. Quanta fatica c'è e quanto spreco in questo modo di vivere. Quanta ansia e quanto senso di colpa. Non capita infatti anche a voi di sentirvi spesso un poco al di sotto delle mille necessità cui sentiamo di dover rispondere. Per questo le donne, anche con questa legge, non indicano soluzioni prefabbricate o miracolistiche. Le donne offrono opportunità nuove, libertà nuove, terreni nuovi e più avanzati per la crescita della società. Una crescita che si deve misurare anche e soprattutto con i valori umani che sa privilegiare, con la solidarietà che sa esprimere, con le potenzialità civili che riesce a valorizzare. Cominciamo oggi questa grande battaglia con forte determinazione e con grande consapevolezza della posta che mettiamo in gioco. Determinazione e consapevolezza sono le stesse armi che in quarant'anni ci hanno consentito di smuovere montagne di ostacoli, di resistenze, di sorde passività. Le difficoltà sono tante anche oggi, ma dobbiamo sapere che vincerle è nell'interesse non solo di tutte le donne, ma dell'intera società italiana. alle donne, alle mie compagne, alle amiche, credo di aver lasciato in eredità la vocazione a coltivare un'autonomia di pensiero e un grande rispetto per le istituzioni. Grazie. 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 Grazie.